Al Gala del NIAF di Washington, anche la Repubblica di San Marino protagonista, presente quest'anno il Secretario di Stato all'Industria Fabio Righi, che ci racconta la presenza della Repubblica di San Marino a questo evento. Sì, importante la presenza della Repubblica di San Marino a un evento come quello organizzato dal NIAF ogni anno. Perché? Perché il rapporto con gli Stati Uniti e con la Repubblica italiana naturalmente è per la Repubblica di San Marino fondamentale. Fondamentale in un momento che stiamo vivendo, in cui la Repubblica sta cercando sempre di più di aprire i propri confini, le proprie relazioni, anche e soprattutto dal punto di vista dello sviluppo economico. Quindi farlo con i principali partner territoriali che sono rappresentati dalla Repubblica italiana e con i maggiori partner della regione di cui la Repubblica di San Marino fa parte, che sono gli Stati Uniti d'America, è il miglior modo per poter sviluppare quella visione che abbiamo di crescita del Paese. E per svilupparla bisogna essere presenti. E quindi abbiamo deciso di essere presenti a questo evento annuale del NIAF che celebra la cultura italiana che in parte è anche la cultura che fa parte della storia della Repubblica di San Marino. Quindi era importante per noi essere presenti. Tra l'altro ricordiamo che c'è un legame diretto fra il NIAF e la Repubblica di San Marino in quanto l'attuale presidente Robert Allegrini è anche il vostro console a Chicago. Sì, assolutamente. Il presidente Allegrini e console Allegrini è credo uno dei motori principali di questo evento che quest'anno ha rappresentato un successo forse senza precedenti negli ultimi anni vista la presenza sia del presidente Biden sia della moglie dottor Biden. e credo sia stato un grande successo. Certo avere console il presidente del NIAF è certamente un elemento che ti permette di entrare ancora più in sintonia con questa fondazione che è una grande fondazione. Quindi credo che San Marino possa essere sempre più presente, debba essere sempre più presente e troveremo il miglior modo per farlo. Grazie a tutti.